Ciao a tutti, diretta odierna, non di certo per... non è una questione solo di bonsai, è una questione di cose ben fatte, di cose ben fatte. Se qualcuno può scrivere nei commenti quale sia la varietà, io penso sia, almeno mi hanno detto, una Picea Abies 2R30 comprata durante le festività natalizie ed ero in attesa di avere una risposta vegetativa per capire, insomma non l'ho tirato fuori dal vaso, era per capire se fosse vitale o meno, ma a quanto pare ha gradito, lo tenevo in mezza l'erba, ha gradito, diciamo così, le cure sin qua fornitegli. Quello che voglio fare, quello che faccio sempre, che ho sempre fatto, è quello di sperimentare. Ora, che vada bene o no, per far bonsai non ha importanza. Quello che ha importanza è acuire la sensibilità nella coltivazione. Tutto ciò serve per far sì che si possa coltivare, come ben sapete, senza i fitofarmaci. Quindi, cercando di acuire la mia sensibilità nella coltivazione, nel capire e captare i piccoli segnali che le piante ci mandano, a modo loro, questo fa sì che noi possiamo diventare sempre più sensibili al mondo vegetale. Questo è il motivo per cui io provo con piante che in genere non sono ritenute, diciamo così, non ritenute non buone per far bonsai, ma addirittura che col clima della Sardegna non possano andare bene. Quindi, ho iniziato a provare tre stagioni fa, due anni fa, con i larici. Larici che dopo vediamo a che punto siamo arrivati. Quest'anno ho deciso di provare anche con un piccolo abete. Perché qua in natura non si trovano gli abeti, ma questo non significa che non possano vivere. Tra l'altro in vaso è più difficoltoso. Allora, vi faccio vedere ciò che penso, ciò che è cosa fare, cosa applico. Quello che voglio provare è solo a coltivare e capire come, andiamo così, come possa reagire una pianta come un abete. Dovrebbe essere, ripeto, una abies. Se chi lo sa, lo scriva, Dino, se lo sai, o qualcun altro. La prova che faccio è molto semplice, non è che ci si debba impegnare a fare chissà quali cose, anche se, sono sincero, la tentazione di mettergli il filo e piegarlo era tanta. Però, quest'anno io la risparmio. Secondo me l'avrebbe anche retta. Ma facciamo le cose. Siccome in questo caso io risulto un neofita, allora faccio come un neofita dovrebbe fare. L'anno prossimo mi comporto più da professionista se passa l'estate. Se passa bene l'estate, perché un conto è superare l'estate e un altro conto è vivere bene. È molto diverso. Vasetto. Utilizzo un vaso che non aiuti più di tanto, cioè non è di terracotta, non è di legno, quindi tende a isolare poco dal colore e a non traspirare, quindi sono svantaggi. Ovviamente, quest'estate io farò sì che il vaso stia all'ombra, come minimo, quindi o in mezzo all'erba o coperto con un materiale isolante, come può essere anche un sacco di sacchi del caffè, sacchi di juta. I fori non sono troppo grandi, quindi non metto rettine. Bardula, il miracoloso terriccio, che chi non può permetterselo deve comprare solo pomice, mi dispiace, pazienza, troppo caro per te, non usarlo, ce n'è di più per noi. La cosa semplicissima che faccio, è una cosa che si fa tranquillamente, ne vi vai, è quello che in termine bonsaistico chiamano falso rivaso. Io invece direi che sia un trappianto e basta. Allora, questo terriccio è fatto esclusivamente di vegetale e quindi penso che sia di torba bionda. Il classico terriccio universale, dico sempre, non utilizzatelo. Non faccio nulla sulle radici, quindi l'altezza è quasi giusta. L'altezza è buona. Semplicemente riempiamo qua di bardula 5,9 mm. Questa è nuova, non è di recupero. Non lo chiamerei un falso rinvaso, ma quello richiamato travaso. Non c'è bisogno neanche di bacchette. Allora, siccome in questo momento le temperature non sono altissime, non sono super, la pianta sarà semplicemente esposta al sole in modo tale che possa fare, perché comunque è una pianta montana ed è estremamente liofila. Quindi quello che mi serve fare in questo momento è che sia esposta al massimo ai raggi solari e così da poter fare fotosintesi a manetta. Sicuramente non potrà essere attaccata da fitoregolatori, perché i suoi fitoregolatori specifici in questo clima non esistono. E' come chi coltiva l'ulivo nella zona della Liguria, che mi ha detto, guarda, noi facciamo biologico per forza, perché all'altitudine dove coltiviamo gli olivi la mosca non vive. E quindi loro fanno bio perché semplicemente non c'è quel tipo di insetto. Non si vede, ma uso una bacinella. Il terriccio è piuttosto pulito. Il lavoro è praticamente terminato qua. È molto semplice. Tutto ciò mi serve, ripeto, per i distratti. Da qua io non sto dando l'esempio di come si fa un bonsai. Quello che voglio trasmettere è che dobbiamo provare ogni volta con un qualcosa a noi sconosciuto per ampliare la sensibilità, per acuire la nostra sensibilità sulla coltivazione. Quindi a questo serve. Quando qualcuno vi giudica o giudica e dice eh ma non andrà mai, ma bene. Quando mi dicono ma non si può fare quella cosa. Bene, allora ci provo. Ci provo perché così capisco quale sia il mio limite e lo porto più su. Portare più in alto i propri limiti non è solo una roba che si applica in palestra, come diceva Schwarzenegger. È una cosa che dovremmo fare per, secondo me, almeno che io faccio, per tutta la vita. Quindi quando ho un limite mi piace superarlo. Senza manie di arrivismo. Per una soddisfazione personale e per stare meglio con me stesso. Più a mio agio, in questo caso, nella coltivazione delle piante. Quindi se io capisco perfettamente, riesco a capire le esigenze di un abete a nuoro, non avrò di certo problemi con un ginepro, con un oxicedrus, con una pianta dove qua è molto più semplice la coltivazione. Ovviamente sono arrivato, non mi ero mai, io sono anche, come si dice, un po' consapevole delle proprie capacità. E quindi mi piace comunque andare per gradini. Non avevo mai provato con un abete, nonostante pensi di poterlo fare. Ma, prima di tutto, bisogna imparare con ciò che è autottono. Quindi con ciò che naturalmente è facile fare. È evidente, le sughere, con le sughere, ad esempio sto facendo a coltivazione e sto già facendo tutto abbastanza bene. Ma questo perché? sono agevolato dal loro clima. Vediamo i larici. Vediamo i larici. Quindi questa è una abete. Facciamo, questi sono i suoi germogli, predominanza apicale grandissima, come giusto che sia. Se qualcuno sa quale sia, faccio una macro, così magari si vede meglio. Con i larici avrei potuto ottenere fiori e invece, perché ho visto un po' di foto di bonsai stichiano i larici in fiore, ma non ci sono fiori. Quindi, terza vegetata, terzo anno, quella non è in bondezza, dentro c'è la raffia che non trovavo in una diretta. Terzo anno, questo è un laricetto che mi ha regalato Oriana, fu invasato completamente in bardula 3-5 mm, invece questo è stato lasciato nella sua zolla originaria, ma questi giorni faccio un piccolo travaso con un vasetto in legno, un po' poco poco più grande, un pochino più grande, anche lui l'arice vegeta benissimo. Nessun fiore, purtroppo, ma tanti germogli, tante gemme che si aprono. Mi sentite? Sì. Allora, quello che volevo dire è che con i larici ho capito, li ho coltivati al sud Sardegna, per il momento sono riuscito a portarli avanti, farli vegetare, farli passare l'estate senza grossi problemi. Quest'anno, viste le esperienze degli anni passati, questi stati avranno un trattamento non fitosanitario ovviamente, ma un trattamento espositivo maturato negli anni scorsi. Semplicemente sarà molto più isolato il vaso e prenderanno sole, alba e tramonto. questa roba qua dovrebbe permettermi di coltivare al meglio, anche perché in futuro vorrei avere qualche esemplare carino di larice. Invece, con la bette iniziamo a provare, quest'anno, con questa piccoletta 2,29 euro, ci sta tutto per fare una prova. Nel frattempo portiamo avanti anche altre cose, un po' più certe, ovviamente è mio mestiere. Oggi il Corrazi è fantastico. Non c'è più neve, eh? 1.360 Corrazi? 1.460? 1.462 1.462 1.462 Allora, per oggi la teniamo così. Ho altre cose da fare, ovviamente, come sempre, ve le facciamo vedere nei giorni prossimi. Appena arriva il vasetto di Torrechessa, lì ne abbiamo uno, questo è di Antonio, questo è di Antonio Massaio, è già ideale come dimensione, abbiamo ordinato un vasetto, anche un altro vaso un po' più chiaro da Torre, per rivasare l'olivastrino di cui vorrei far notare che sta già, si vede, le gemme, le gemme, sta già vegetando, sta vegetando ovunque io abbia lasciato una gemma, ma anche, ecco, facciamo notare questa qua, vedi? quindi, appena arriva il vaso, defogliazione totale e rinvaso, questo è un lavoro, questo tipo di lavoro, è un lavoro che fa un professionista, ma vi farò vedere come si fa, questo sapere come si fa permetterà a un neofita non di farlo, ma di sapere a cosa deve arrivare, è molto differente, quindi, vedere qualcosa che può essere per noi utile in futuro fa sì che possiamo capire che ci possiamo arrivare, non è un lavoro che deve fare un neofita, infatti, se questa filatura fosse stata fatta anche da me in postazione, ma poi la pianta l'avessi restituita ad un neofita, gli avrei sconsigliato il rivaso, rivaso da fare a novembre, dopo aver addirittura eliminato già tutto il filo e aver avuto un periodo almeno di tre mesi senza il filo, dopodiché rivaso, in questo caso io sto riuscendo a fare tutte le lavorazioni con tempi più ristretti, ma sempre e comunque osservando la pianta, infatti, dissi ad Antonio facciamo così appena vedo vedo germogli su tutta la pianta potremmo fare rivaso, ovviamente sarà poi aiutata con una busta chiaro, giusto? Con una busta, busta equivale ad un ambiente tropicale, perché così si capisce bene dove l'umidità è elevatissima e le temperature non sono tanto basse, quindi temperatura e umidità ideali allo sviluppo vegetativo di qualsiasi pianta, in quelle condizioni ho visto radici aeree su ginepri fenici, chiaro, quindi il concetto è molto chiaro, a quella temperatura e umidità si fanno chi è professionista tale è di pini, tale è di abeti, quindi quella temperatura e umidità e luminosità di qualità, quindi ultravioletto che entra dentro nella quantità giusta, farà sì che la pianta superi il rinvaso, lo vedremo in diretta però, ciao!